da situazioni complicate fatto ripartire, brava Cristina Chirichella tra le migliori in campo sicuramente ci ha fatto cambiare marcia ancora Chirichella, insidiosa ancora con mia scita sui tre metri Lucisedo, attaccare questo problema, possiamo rigiocare Catarina Bosetti, Malinova il primo tempo di Piscarighetti mamma mia che fortuna se ha fortuna rigiocalo primo tempo da Righetti la mette giù ma c'è Nagaoca Lucisedo, la palla attaccata centrale, salvataggio con Valentina Righetti per Del Corri, l'attacco di Del Corri a piazzare quel pallone, ancora Nagaoca con Lucisedo, ancora piazzare Malinova, Catarina Bosetti e palleggiare Del Corri, prende le misure, attacca questo pallone ancora Sano, fa vedere tutto quello che non ha mai fatto vedere in tutto il match ancora Catarina Bosetti con la palla rimessa di là da Piscarighetti, lo scambio lunghissimo ancora Lucisedo, attacca questo pallone, le mani del muro ancora un salvataggio dell'Italia con Malinova, per Del Corri, l'attacco di Del Corri il muro, ancora copertura senza fiato, in apnea con Centoni a piazzare quel pallone, si salvano ancora con il primo tempo che non va ancora Sano, dopo il muro da Righetti ancora Cisedo, le mani del muro ancora Del Corri, ancora il salvataggio dell'Italia con Centoni a risolvere a Taro, i quattro match point all'Italia Ti ho contato lì ancora Maurizio nel 2015 a dimostrazione della lunghezza dello scambio sicuramente siamo state molto brave a mantenere una pazienza